Buon pomeriggio a tutti, buonasera e buongiorno per chi ci segue a seconda del posto da dove ci segue e ci accompagna. Per me è un grandissimo piacere e privilegio essere con tutti voi e accompagnarvi in questa discussione particolarmente centrale sulla questione del diritto alla cura e del fine vita in relazione alle esigenze di tutela ad esse connesse e alle rispettive scelte confessionali. Questo seminario, così come i precedenti, si inserisce in un più ampio progetto di ricerca del quale ho il privilegio di far parte insieme alla collega e amica, mi permetto di dire, dottoressa, avvocato Antonella Lo Sanno, che è la totale e assoluta responsabile dell'organizzazione sostanziale dei contenuti e degli interventi di oggi e cui a breve cederò la parola. Questo seminario, dicevo, si inserisce in un più ampio progetto di ricerca su pluralismo confessionale e dinamiche interculturali, le best practices per una società inclusiva, con il fine appunto di monitorare le best practices esistenti o in una prospettiva di jurecondendo, come vedremo poi nei prossimi seminari, in materia appunto di pluralismo confessionale e dinamiche interculturali, grazie al sostegno dell'Istituto San Pio V di Roma. Ovviamente, diciamo, la mente di questo progetto, la mente, il braccio, lo spirito di questo progetto è il professore Paolo Palumbo, che è anche con noi oggi, che ho il privilegio di introdurre brevemente e farà due indirizzi, un breve indirizzo di saluto, lo invito a profitto a mantenersi nei tempi, ma so che lo farà. Il professore Palumbo è straordinario di diritto ecclesiastico e canonico all'Università Giustino Fortunato, ma diciamo è uno specialista nella materia, soprattutto di studi relativi al pluralismo confessionale, a molteplici aspetti del pluralismo confessionale, ed è praticamente, diciamo, concentrato nelle sue attività accademiche e professionali sulla concreta, sul concreto svolgimento di iniziative che possano promuovere il dialogo interculturale. Ehm, approfitto per rinnovare i ringraziamenti per avermi incluso in questo progetto eh importantissimo, io non voglio prendermi più tempo e passo la parola al collega Paolo perché faccia eh i suoi eh saluti. Grazie. Grazie, sono io a ringraziare la professoressa Antonietta Elia, troppo buona, ma specialista, diciamo, è una parola, diciamo, troppo eh grande, troppo impegnativa. Proviamo anche attraverso questo progetto di ricerca che ha la supervisione scientifica del professore Antonio Fuccillo, ordinario di diritto interculturale presso l'Università Bambitelli, che ringrazio e che saluto e che gode appunto del patrocinio e del sostegno economico dell'Istituto San Pio V, che oggi eh doveva essere rappresentato, ma per motivi istituzionali non è stato possibile dal professor Giuseppe Acocella, che è anche il magnifico rettore dell'Università Giustino Fortunato di Benevento e che mi ha chiesto di portare i saluti anche a nome suo a tutti voi che ancora oggi in numero così importante partecipate a questo webinar, a questi seminari. Ecco, stiamo portando avanti ormai da circa da oltre un mese queste iniziative, abbiamo ragionato sul rapporto tra religione e detenzione, abbiamo ragionato sulla condivisione dei luoghi di culto, abbiamo ragionato del tempo per le religioni nei rapporti di lavoro ed oggi arriviamo alla tematica del diritto alla cura e del fin di vita. Permettetemi di ringraziare le università che contribuiscono alla realizzazione di questo progetto di ricerca, che condividono con noi questo percorso, sia l'Università Giustino Fortunato, ma anche appunto l'Università Bambitelli, la Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, l'Università di Firenze, che è anche qui rappresentata proprio dalla professoressa Laura De Gregorio, che ancora ringrazio e saluto, la Università di Milano Bicocca, l'Università Cattolica di Colombia, l'Università di Santiago di Compostela, che invece è rappresentata proprio dalla professoressa Antonietta Elia. Ecco, credo sia importante, particolarmente significativo il tema che tratteremo stasera. Mi è certamente molto a cuore, anche perché il sottoscritto chiuderà questo ciclo di incontri, ecco, trattando l'argomento che sta un momento dopo rispetto a quello che tratteremo stasera, cioè il tema delle sepulture interculturali e interconfessionali e quindi ringrazio in modo particolare anche la Presidente Falà del Tavolo Interreligioso di Roma, i suoi collaboratori, perché poi saranno anche protagonisti del prossimo incontro che tratteremo nel mese di maggio, come con loro ringrazio la professoressa Elena Falletti della Liuc, che appunto è con noi questo pomeriggio. Dicevo che le problematiche e le questioni che emergeranno e che toccheremo in questo seminario certamente sono questioni che riguardano materia teologica, antropologica, sociologica, etica, pastorale, medica, ma soprattutto questioni di carattere giuridico, perché l'aver cura dell'altro non è solo una questione etica, ma è più specificamente il dare a ciascuno il suo, cioè un dovere giuridico in senso stretto di riconoscere ad ogni persona ciò che le spetta, proprio in virtù della propria vulnerabilità, in quanto sempre nella relazione di cura si impone una domanda di giustizia nel pieno riconoscimento dell'altro. Ecco, è significativo notare che il dibattito di questa sera, come un po' anche il tema del nostro progetto di ricerca, parte dalle tematiche inerenti il diritto ecclesiastico e i diritti confessionali e si apre al confronto con gli altri studiosi di altri settori disciplinari. Ciò nella convinzione che il dibattito bioetico rappresenta il terreno fertile in cui deporre i semi del dialogo interculturale affinché si producano i frutti di persone orientate all'incontro o quantomeno alla buona volontà di incontrarsi. Sul terreno della bioetica, infatti, sempre più spesso si sperimenta un articolato sistema di rapporti tra la comunità politica e i gruppi etico e religiosi e gli studiosi del fatto religioso possono dare un valido contributo alla via giuridica perché da sempre studiano come assecondare e valorizzare questo dinamico rapporto, direi così, di complementarietà e distinzione tra religione politica, tra etica e diritto, tra coscienza e società, tra individualità e pluralismo al fine di conseguire maggiori ambiti di libertà e quindi di rendere l'uomo più persona e la convivenza più civile. Si arriva così al cuore delle problematiche che trattiamo nei nostri seminari anche in questo, cioè il tema centrale della laicità, ovvero del sistema di relazione tra l'ordinamento giuridico e le istanze etiche, una sana laicità che non si contrappone all'eticità o alla religiosità, una laicità che non è un'etica contrapposta alle altre o una cultura contrapposta alle altre, ma è proprio la sede del dialogo e del rispetto, la struttura di quella particolare forma di Stato che noi chiamiamo democrazia pluralista, che non si lascia tentare dal servirsi del diritto positivo per imporre un'etica, né dal tradurre in norme la prassi sociale o il sentire di più. E quindi è necessario certamente il riferimento a una tavola di valori comuni ed è certamente questo il principale merito della best practice che sarà oggetto di attenzione in questo pomeriggio. Mi riferisco al manifesto interreligioso dei diritti nei percorsi di fine vita promosso proprio dal tavolo interreligioso di Roma, ma faccio anche riferimento ad altri documenti che certamente possono aiutare nella riflessione di questo pomeriggio. La dichiarazione congiunta delle religioni monoteiste abbranitiche sulle problematiche del fine vita, la recente lettera della congregazione per la dottrina della fede Samaritanus Bonus, tutti i documenti, tutte best practice, tutte questioni che pongono naturalmente al centro l'attualità di un dinamico confronto fra studiosi, ricercatori e società civile come faremo anche in questo pomeriggio e come faremo anche nei prossimi incontri con cui vi saluto e vi ringrazio invitandovi a partecipare ai prossimi appuntamenti che vado brevemente a ricordare perché il 22 aprile tra due giorni avremo il nuovo webinar sulla tematica del rapporto coppie e famiglie miste e poi invece il 26 aprile alle ore 17 il tema della tutela della libertà matrimoniale del contrasto al fenomeno delle spose bambine. Ringrazio in modo particolare la dottoressa avvocato Antonella Lo Sanno per aver promosso questo incontro e per l'impegno che ha profuso proprio nell'organizzarlo e nella migliore realizzazione che certamente ci porterà a uscire questo pomeriggio da quest'aula virtuale più ricchi. Buon pomeriggio e buon lavoro a tutti. Grazie Paolo, sono onorata io di far parte di questo progetto di ricerca. Ringrazio te, ringrazio Antonietta, anche il lettore che non è presente. In ogni caso porto i saluti della Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Benevento, Avvocato Stefania Pavone, dal momento che l'evento è stato patrocinato dal Consiglio dell'Ordine e sarà accreditato per i crediti formativi. Quindi veniamo alla tematica, il diritto alla cura e il fine vita, esigenze di tutela e scelte confessionali. Ebbene è impossibile tentare un'analisi di questa tematica, appunto il diritto alla vita, il diritto alla cura e il fine vita nel tempo assegnatomi, proprio per la complessità, la molteplicità delle questioni etiche, morali, sociali, giuridiche coinvolte, per cui mi limiterò a cercare di delineare spunti di riflessioni che poi affiderò ai due successivi interventi, per l'individuazione anche magari di qualche best practice. Sederci oggi, seppur fissualmente, intorno a un tavolo e discutere in data 20 aprile 2021 sul diritto alla cura e il fine vita, tentando di individuare una possibile best practice, può far sembrare tutto anacronistico o tutto in divenire, a seconda del punto di vista dal quale considerare questa tematica, tenuto conto che per pura coincidenza, proprio oggi, 20 aprile 2021, è la data fissata e quindi quattro ore fa è stato depositato in Cassazione il quesito referendario per la legalizzazione dell'eutanasia. E proprio da quest'ultimo dato vorrei partire, per tentare di cercare spunti di riflessione per questa questione che è abbastanza complessa. È emblematico infatti il dato che su una questione quale quella dell'eutanasia si sia provveduto a depositare il quesito referendario presso la Suprema Corte. Questo è sintomo di un voto normativo in materia di scelte di fine vita, forse probabilmente voluto per i troppi interrogativi etici e religiosi che il fine vita in una società pluralista quale la nostra, nella quale inevitabilmente le scelte di fine vita si orientano fra due posizioni estreme, da adito a varie istanze, da parte di chi vorrebbe la legalizzazione dell'eutanasia aderendo alla teoria disponibilistica della vita e di chi aderendo invece alla teoria della indisponibilità della vita umana vorrebbe mantenere il divieto vigente in materia di pratiche eutanasiche. Ma allora cosa è il diritto alla vita? È possibile definirlo? È possibile relazionarlo in relazione con il diritto alla salute? La Costituzione non prevede esplicitamente il diritto alla vita, ma è considerazione comune che sia un diritto implicito a cui poi l'intera carta costituzionale si va ad ispirare. Costituisce in altri termini il diritto presupposto per poter esercitare altri diritti costituzionali e infatti l'articolo 32, principio cardine, prevede il diritto alla salute quale diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni di legge e quindi si fondano in questa norma interessi soggettivi propri dell'individuo e interessi oggettivi propri della collettività. E ancora l'articolo 2 poi va a riconoscere e garantire diritti migliorabili dell'uomo in cui si manifesta il valore più alto del nostro ordinamento, la tutela della persona umana, ponendo il primato dell'uomo come valore etico in sé, dell'uomo come fine, non come mezzo e ripudiando ogni forma di strumentalizzazione della persona umana. L'uomo in base a quanto viene sancito diventa persona, viene così presentato anche l'aspetto di collocarsi all'interno della trama di relazioni sociali in cui vive e proprio per garantire meglio questo aspetto sociale che viene inserito nella Costituzione la causa dell'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà. Allora in base al personalismo, al solidarismo dell'articolo 2, sono da ritenere illegittimi trattamenti sanitari che non hanno il consenso del soggetto, non sussistendo un dovere di curarsi se non nei limiti dell'articolo 33 della Costituzione, qualora c'è lo stato di malattia del soggetto possa costituire un pericolo alla salute come interessi altrui e della collettività. E allora sostanzialmente partendo dal titolo di questo incontro, il diritto alla cura e fine vita, verrebbe da chiedersi l'ambito entro il quale il soggetto ha diritto di accedere alla cura, di disporre della cura e fino a quando e fino a dove può decidere di non curarsi. Ebbene, laddove ritenessimo che il valore supremo sia la libertà nel senso ampio del termine, fino a ricomprendere l'autodeterminazione perché nella libertà si radica la dignità e viene negata la libertà ogni volta che si va a compromettere la seconda, ovvero la dignità, l'eutanasia sarebbe legittima in forza del bilanciamento costituzionale di beni di uguale natura, quello alla vita e quello all'autodeterminazione. In altri termini, la dignità diventa un valore supremo perché implica l'identità, intesa come concezione di un progetto di vita, di credenze religiose, di un'etica personale, di valori percepiti e assimilati, tanto che se l'individuo viene calpestato nella sfera dei valori personali, potrebbe facilmente preferire la morte piuttosto che agire in un modo che non ritiene consono al suo sentire. Ecco allora uno delle questioni da porre, la centralità dell'autodeterminazione, la centralità del consenso informato. Solo un paziente correttamente informato può esprimere un valido consenso per un determinato trattamento sanitario. In questi termini si pone la legge che finalmente ha fornito una regolamentazione del consenso informato, la legge 217 del 2017 che appunto in merito al consenso informato e alle disposizioni anticipate di trattamento statuisce nel rispetto dei principi di cui agli articoli fondamentali della carta costituzionale, articolo 2, articolo 13, articolo 32 della Costituzione e ancora degli articoli 1, 2, 3 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che rilevanta del diritto alla vita, alla salute, alla dignità, all'autodeterminazione della persona, statuendo che nessun trattamento sanitario può iniziato o si può proseguire senza il consenso libero informato della persona interessata, tranne che nei casi previsti per legge. Ebbene, la legge 219 non va a disciplinare il fine vita, ma si presenta come un'attuazione pratica del diritto alla salute nella sua dimensione positiva e negativa, valorizzando il concetto di qualità della vita, poiché pone al centro di interesse il paziente la sua autodeterminazione che si esplica nella valutazione personale di scelte terapeutiche alternative. Tanto è vero che ogni paziente deve essere, ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute, di essere informata in modo completo, aggiornato, in modo comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai trattamenti, agli accertamenti diagnostici, nonché riguardo alle possibilità dei vari trattamenti stessi, al fine di poter addivenire anche un rifiuto al trattamento dell'accertamento diagnostico. Quindi la legge sul consenso informato perché la richiamiamo? Perché va a superare in maniera definitiva, oserei dire, l'antico approccio paternalistico del rapporto medico-paziente, attuando quello contrattualistico e codecisionale. Dal consenso informato e sul consenso informato si va a fondare quella relazione di fiducia in cui si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la compotenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del medico. In altri termini cosa succede? Una volta che è stata fornita un'adeguata informazione, il paziente ha la possibilità di esprimere un valido consenso per esempio a un intervento chirurgico o di manifestare il suo dissenso di fronte al quale il medico dovrà astenersi dall'intervento. Si è posto il problema di quali cure possano costituire oggetto del dissenso del paziente. In altri termini cosa accade quando dalla richiesta di sospensione di un trattamento medico possa derivare la morte del paziente e quindi fino a che punto è doveroso curare un uomo? Quanto pesa la volontà dell'uomo paziente? Quanto la coscienza dell'uomo medico? Anche nell'ipotesi del dissenso ci si può trovare di fronte a due interrogativi. Collegare questo principio ai diritti violabili dell'uomo tra cui l'insopprimibile diritto alla vita o all'interno del diritto alla salute di conseguenza facendo riferimento al diritto di libertà personale. Ebbene la legge 219 si pone in continuità con il codice di diontologia medica con il dovere quindi del medico di salvaguardare la vita, la salute, non solo fisica ma nel rispetto della libertà e della dignità dell'assistito nonché si pone anche nell'ottica della continuità della statuzione del divieto di ostinarsi in trattamenti da cui non possa derivarne alcun beneficio per il paziente l'accanimento terapeutico. Tuttavia la legge ha le sue falle e perché d'altra parte si pone anche in contrasto con quello che va a statuire il codice di deontologia medica nel senso che il medico anche su richiesta del malato non deve effettuare né favorire trattamenti diretti a provocarne la morte. In realtà la legge stabilisce e va a statuire proprio sulle direttive anticipate di trattamento quindi in questo caso si potrebbe creare un conflitto tra quanto deciso dal paziente e quanto il medico prevede di fare, qual è il trattamento che prevede di realizzare. E in caso di malattia e ancora in caso di malattia prognosi in fausta o pervenuta alla fase terminale il medico deve limitare la sua opera all'assistenza morale o alla terapia atta risparmiare inutili sofferenze fornendo al malato trattamenti appropriati a tutela per quanto possibile della tutela della qualità della vita. Quindi questo il quanto statuisce il codice di deontologia ma a chi spetta delineare la qualità della vita? Su quali quali criteri devono si devono considerare perché una vita sia degna di essere vissuta? E se ad esempio venisse considerato solo il parametro del dolore percepito dal paziente non si andrebbe a legere il suo diritto più ampio alla salute in quanto non comprensivo anche della salute psichica? Ebbene sono questioni che non vengono risolte se così possiamo dire dalla normativa richiamata. E un'altra incongruenza è nei confronti dei soggetti fragili. La legge infatti non ha previsto quando abbiamo visto la centralità del consenso ma la legge non ha provveduto a tutelare adeguatamente i soggetti dai quali non può provenire un adeguato consenso che sia stato prestato contapevolmente. Mi riferisco appunto agli incapaci, soggetti fragili e quindi la legge se da un lato per loro vuole evitare l'accanimento terapeutico, l'eutanasia, in realtà poi dall'altro canto il rischio è che potrebbe essere praticato proprio una di queste soluzioni nei loro confronti, allora quando non vi sia un accordo tra chi dovrebbe decidere per questi soggetti. mi spiego, nella pratica se l'incapace totale in precedenza ha redatto un adatto, una disposizione anticipata di trattamento sicuramente queste disposizioni sono da ritenersi vincolanti e quindi il rappresentante legale che non sarebbe altro che il nuncius di questa volontà del rappresentato dovrebbe limitarsi a riprodurre fedelmente quello che è stato già stabilito dal soggetto. Nel caso invece dell'incapace parziale, le eventuali dati predisposti in precedenza che non sono vincolanti perché il paziente conserva sempre il diritto a mutare idea e a rievocare il consenso o il diniego. in questo caso allora la funzione del rappresentante legale è quello di affiancare l'incapace al fine di manifestarne la volontà e poi c'è anche l'altro caso che nell'incapace totale quando un soggetto abbastanza grande per avere un vissuto non ha predisposto le dati. In questo caso il compito del rappresentante legale è quello di ricostruire la volontà del soggetto basando su vicende etiche, morali, religiose e il caso Inglaro. e ancora i minori. Anche i minori sono centrali in questa disamina perché anche per loro c'è un problema di manifestazione del consenso. per i minori un ruolo centrale è costituito e occupato dai genitori, dal tutore e se da un lato è opportuno che i genitori diventino insieme al minore i protagonisti del rapporto di cura perché è sancito prima a livello costituzionale poi a livello civilistico che è il dovere dei genitori occuparsi materialmente dei figli, assistere moralmente i figli nel rispetto della loro capacità delle loro inclinazioni e aspirazioni non appare similmente adeguato che i genitori o il tutore si sostituiscono al minore nelle decisioni di fine vita. In realtà in base a quanto dice l'articolo 315 del codice civile il minore che ha compiuto 12 anni o anche se di età inferiore con capacità di discernimento ha diritto a essere coinvolto in tutte le questioni che lo riguardano ma ammesso che il minore abbia la capacità di esprimere la volontà in merito ai trattamenti terapeutici si può ritenere con certezza che si tratti di una volontà autentica si può evitare che l'opinione dei genitori non influenzi quella del figlio in un'età in cui i genitori sono considerati come giusti in assoluto? In realtà nessuna disposizione include un intervento giudiziario automatico e siamo in realtà anche lontani da una clausola di salvaguardia della legge per il minore perché infatti a nominare il medico sono i genitori o il tutore e questi possono sempre nominarne un altro in caso di disaccordo il ricorso al giudice tutelare non è scontato e potrebbe non avvenire mai. Su questa tematica quindi della manifestazione del consenso quindi delle cure in un'età così particolarmente delicata o anche della non cura nei neonati o nei bambini in tenera età si occuperà più in dettaglio la professoressa Falletti attraverso la disamina dei bambini inglesi quindi Charlie Gard, Alfie Evans o il caso Tafida ci illustrerà meglio quanto poi il difficile il tema dedicato del fine vita appunto nei neonati e nei bambini. E allora per concludere così mi avvio alla conclusione questa problematica del fine vita è una problematica ampia che sicuramente per tutte le tematiche i valori che influenzano la conoscenza di ciascuno non può non essere non può non collegarsi alle varie posizioni delle varie confessioni religiose il fine vita viene inevitabilmente trattato in chiave teologica al riguardo le confessioni abramitiche hanno sottoscritto la dichiarazione congiunta nel 2019 andando a ripudiare l'eutanasia e il suicidio assistito quali atti inaccettabili in tutte le loro forme senza eccezione alcuna. Dietro appunto le ragioni della dichiarazione congiunta delle religioni abramitiche vi è un obbligo religioso di salvaguardare la salute e la vita in generale in quanto si dice che la vita è sacra e la vita quanto la morte sono sottratte al controllo umano inoltre si dovrebbe uccidere la sofferenza e non le persone e nella diversità delle prospettive religiose il dibattito si va a concentrare sul difficile tentativo di mediazione fra la sacralità della vita e la cura e la qualità delle stesse una soluzione eticamente sostenibile si fonda sul corretto bilanciamento dei principi coinvolti tra la scelta terapeutica richiesta al medico e quella di curarsi consapevolmente del singolo paziente se il diritto di vivere è fonte di tutti i diritti e include anche il diritto di morire non può ammettersi anche in forza del principio di laicità che una differente concezione sacrale della vita si vada a tradurre nell'imporre al singolo contro la sua espressa o presumibile volontà una sofferenza senza speranza e alla domanda quindi se la vita quindi è autodeterminazione o dono irrinunciabile è evidente che il diritto di rifiutare debba essere letto alla luce di una consapevolezza che va oltre il mero rispetto dei precetti religiosi ma che invece è espressione di una autodeterminazione sia sanitaria sia politica che etica che si manifesta attraverso l'insintacabile processo intimo e volitivo dell'individuo nell'ottica della completa affermazione del moderno principio dell'alleanza terapeutica che riporta l'attenzione sul singolo paziente, la sua volontà, il suo consenso informato cioè quale soggetto e non più soltanto quale oggetto di cura e in questo a riguardo ci sarà poi l'intervento successivo del dottor Bazzoni della dottoressa Falà che sono stati intieme promotori del manifesto interreligioso sul fine vita a cui prima ha fatto cenno il professore Palumbo che ci illustreranno in dettaglio le esigenze delle varie confessioni e ci daranno una best practice operativa anche in relazione proprio all'approccio sanitario della struttura del medico in relazione a questioni così delicate che meritano una tale attenzione insomma io avrei finito per quanto mi concerne ora non so Antonietta passo a te un attimo la parola o passo direttamente o cedo la parola al dottore Bazzoni sì Antonella giusto innanzitutto congratulazioni per questo intervento interessantissimo ci sono degli aspetti che spero di avere il tempo di sottolineare più avanti ma già in questo termine uno su tutti vogliono sottolinearne è la questione che hai rilevato rispetto all'età del minore e al coinvolgimento nelle cure nel trattamento sanitario perché voglio puntare su tutti gli aspetti salienti del tuo intervento voglio puntare principalmente su questo perché mi sembra che sia un argomento molto scottante per molti paesi anche fuori dal continente europeo e non solo nel contesto di fine vita ma anche nel contesto in cui ci troviamo di pandemia e anche estrettamente correlato se vogliamo alla questione del fine vita di pandemia e o di epidemia voglio farvi un esempio concreto giusto per dare anche un aspetto se vogliamo di oltre confine in relazione al caso dell'Angola dove la situazione praticamente la situazione della pandemia legata alla preesistente epidemia di HIV crea non pochi problemi nella gestione sanitaria proprio in considerazione del fatto che la trasmissione del virus dell'HIV è collegato del virus del covid-19 avviene molto più rapidamente tra i minori e allora nel coinvolgere le cure non esiste un sistema legale chiaro in cui definire insomma è un problema con le dovute differenze di tradizione giuridica e contestuale però è un problema molto molto più ampio nel caso italiano e nel caso mi permetto di estenderlo dei paesi a civil law è più in termini forse applicativi che normativi sostanziali nel senso io poi Antonella magari sarei molto felice di capire tu cosa ne pensi se si tratta semplicemente di una questione applicativa che si può risolvere caso per caso è necessario o più semplice risolvere caso per caso piuttosto che chiarire il testo la normativa applicabile ab inizio dunque senza abusare del poco tempo che abbiamo a disposizione ringrazio anche Antonella per essere stata nei tempi e passerei ripasso la parola a te perché tu voglia introdurre il dottore Balzoni che sarò mi sa che mi sono un attimo inceppata sulla scaletta anche per come ho introdotto i temi c'è prima la tematica dei bambini inglesi quindi la professoressa Palletti quindi io passo la parola a te perché tu voglia introdurre la professoressa Palletti però permettimi prima di darle il benvenuto e dirle che sono molto felice di conoscerla anche se virtualmente sperando di poterci vedere personalmente molto presto quindi ti ricedo la parola e ascolterla con attenzione grazie mi associo a lavorarci e di vederci quanto prima magari di persona è un piacere professoressa averla qui con noi e quindi come ho già anticipato lei si occuperà del tema dedicato delle decisioni di fine vita dei neonati magari andando a individuare se possibile una best practice nell'ordinamento amplosassone oppure quali i limiti, le perplessità, gli inceppi ordinamentali il ruolo giudiziario, il ruolo del potere giudiziario in queste scelte così difficili e delicate che sicuramente coinvolgono la coscienza del singolo sicuramente amplificano il coinvolgimento della coscienza proprio perché stiamo trattando di neonati non vorrei intrattenermi oltre e quindi le cedo la parola buonasera riuscite a sentirmi? sì 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 perfetto innanzitutto desidero ringraziare l'avvocato Lozano per le belle parole che ha utilizzato per presentarmi la professoressa Elia e anche lei per il suo caldo benvenuto e mi piacerebbe incontrarla personalmente a Roma o a Santiago o dove vorrà cioè pur di riuscire a ritrovare una parvenza di normalità nelle nostre vite che io ose definire in scatolate ma passando oltre ringrazio dell'invito perché mi permette di occuparmi di un tema a me molto caro da qualche anno a questa parte io di formazione sono una giurista comparatista in particolar modo di diritto privato e mi sono occupata di trattamento di fine vita dei bambini dei neonati nel diritto britannico nel common law britannico perché presentano diversi elementi diverse criticità diversi aspetti interessanti relativi a molti aspetti come se si trattasse di un prisma che lo si guarda da diversi aspetti sembra avere una sonitarietà in realtà riflette la luce in modo differente secondo della prospettiva e i casi dei minori inglesi molto famosi nelle cronache non soltanto europee ma anche oltreoceano riguardano per esempio case tutti noti Charlie Gard per esempio oppure Alfie Evans, Isaiah Astrup o Tafida Rakib ciascuno di essi presenta un rapporto specifico con un aspetto rilevante per esempio il fine vita riguarda in particolare il rapporto tra diritto e scienza soprattutto diritto scienza e tecnologia perché l'applicazione di nuove tecnologie nell'ambito medico ha consentito l'estensione della vita umana e l'ospedalizzazione della stessa in modo che fino a qualche tempo fa risultava assolutamente inconcepibile imprevedibile e questo non ha ancora pienamente trovato una soluzione da un punto di vista giuridico si è parlato della legge 219 2017 ma non ha ancora prettamente risolto qual è l'equilibrio tra la volontà della persona la deontologia e la coscienza del medico è appunto il rapporto con la tecnologia stessa e questo aspetto diventa ancora più rilevante nell'ambito del trattamento dei pazienti infantili oppure c'è un altro aspetto importante che è emerso fortissimo nel caso di Alfie Evans poi andrò nel dettaglio c'è il rapporto tra le persone, gli individui, la famiglia in questo specifico, i genitori e le autorità siano esse lo Stato attraverso appunto il potere giudiziario sia attraverso il coinvolgimento delle autorità specificamente preposte in questo caso l'ordinamento anglosassone prevede che che sia l'intervento in ogni procedimento giudiziario avente come protagonista un minore il cosiddetto CAFCAS cioè il Children and Family Court Advisory and Support Service che nomina proprio esprime il curatore del minore nel processo quindi è quello con lui o con lei dipende da chi viene nominato che esprime la volontà del minore che non viene più espressa nel processo dai genitori ma proprio dall'autorità dall'autorità preposta e questo è di nuovo foriero di riflessioni, di problemi e poi abbiamo, o perlomeno io ho focalizzato, la prospettiva di Isaiah Asprop dove il giudice fa una sorta di riflessione relativamente a cosa potrebbe pensare un minore in questo caso a Isaiah che è nato da un parto sfortunato è entrato in terapia intensiva e c'è stato per tutta la sua vita cioè otto mesi e nel caso di Isaiah il giudice si chiese si chiese come Isaiah potrebbe immaginare avessi potuto immaginare la sua prospettiva di vita ma appunto lo vorrei approfondire più tra poco poi vi è il caso altrettanto famoso perché la bambina è stata ospitata in un ospedale italiano il caso Tafida Rakib che riguarda questa giovane proprio piccola non neonata ma ancora piuttosto piccola bambina di 5 anni che è colpita da una emorragia celebrale è stata appunto oggetto di una battaglia giudiziaria i giudici britannici hanno consentito il suo trasferimento in un ospedale italiano in particolare il Glaslin di Genova ecco, quando l'avvocato Lozano parlava di bambini inglesi io mi sono riferita in particolare a queste fatti specie perché ho notato che nell'ordinamento britannico c'è una particolare attenzione riguardo alle questioni di fine vita che riguardano appunto bambini molto piccoli ora iniziamo da quello che è significato nel rapporto diritto e ricerca scientifica e tecnologia del rapporto di Charlie Gard Charlie Gard è stato veramente un caso molto famoso perché ha coinvolto una raccolta fondi via Facebook per poter trasferire il bambino negli Stati Uniti affinché gli venisse somministrata una terapia sperimentale relativa a una malattia che non era propriamente la sua era così rara che della sua non c'erano casi pubblicati e nessun tipo di ricerche in corso ma siccome esisteva un esperto che poteva essere utile in quanto la patologia era simile ai suoi studi questo esperto ha consentito per lo meno si è reso disponibile ad applicare a Charlie Gard un trattamento sperimentale e la famiglia, i genitori pur di nutrire speranze hanno raccolto attraverso il crowdfunding Facebook e altre forme quasi un milione di dollari ed è una cifra enorme una cifra enorme che vede anche l'intervento di una serie di conflitti di interessi perché innanzitutto come sappiamo le terapie sperimentali non possono essere fatte su un soggetto fisico unico, singolo perché bisogna che esista un trial, un protocollo specifico una corte di soggetti che possono essere sottoposti al trial affinché si possa somministrare la terapia sperimentale anche la terapia per lo meno l'effetto placebo e questo è rilevante in questo caso perché ci chiede qual è il rapporto tra scienza e diritto accadimento terapeutico e da un lato dall'altro lato dato che c'è stato il grosso coinvolgimento del social network di Facebook e di altri social network della stampa ci si chiede e infatti il giudice nella sentenza nell'ultima sentenza Garda se lo è chiesto qual è l'impatto, la pressione che può sopportare un organo giudicante di fronte a questo tipo di strategia utilizzo questo termine perché effettivamente si può ricondurre a questo termine come ricorderete il caso Garda è stato sottoposto anche la Corte Europea dei Diritti Umani esattamente come in tempo il caso Inglaro la Corte Europea dei Diritti Umani ha dichiarato la questione irricevibile perché secondo la Corte il giudicante inglese nei suoi gradi di giudizio quindi primo grado di fronte alla High Court secondo grado di fronte alla Corte Europea addirittura la Corte Suprema hanno analizzato tutte le voci in causa e gli interessi del bambino sono stati adeguatamente prese in considerazione e quindi sarebbe da aprire un sottoparagrafo, spero non troppo lungo per parlare del cosiddetto best interest of the child cioè la tutela del best interest of the child nell'ordinamento inglese l'ordinamento inglese del Children Act del 1989 riconosce una posizione giuridica autonoma del minore rispetto a quello dei genitori e valuta il suo benessere, quindi il suo welfare e il migliore interesse in modo indipendente rispetto a quello degli adulti coinvolti proprio per primi nei confronti dei genitori mi verrebbe da dire contro i genitori ed è quello che in un certo senso riveste il ruolo del Kafka che vi ho riferito poc'anzi nel caso di Charlie Gard la situazione era proprio netta perché la questione concerneva l'accesso del minore a una terapia sperimentale che non si poteva neanche considerare tale in quanto l'unico soggetto di quella terapia era questo bambino e non è stato considerato appropriato e nel suo interesse essere oggetto lui soltanto della terapia sperimentale in certi termini si potrebbe considerare l'esivo della sua dignità perché questo minore rischiava di essere considerato come una cavia termine brutto, termine non... termine brutto, sì, non mi piace però in questo senso si è espressa nei termini di guinea pig in inglese la corte ora abbiamo parlato del Kafka e lo ritroviamo nel rapporto tra molto conflittuale che c'è stato tra la corte la high court, i sanitari e quindi l'ospedale e i genitori di Alfie Evans anche nel caso di Alfie Evans lo scontro fu fortissimo di fronte alla corte al bambino venne autriata anche la cittadinanza italiana per trasferirlo in un ospedale italiano ma il giudice rifiutò il riconoscimento di questa argomentazione in quanto il bambino di pochi mesi non era mai vissuto in Italia e quindi non poteva essere trasferito in un altro ordinamento del quale non aveva mai potuto risiedere ai sensi del diritto comunitario all'epoca o meglio dell'Unione Europea ricordate che stiamo parlando di tutti i casi in era pre-Brexit Antonella quanto mi rimane ancora? eh esattamente eh professoressa Palletti le restano diciamo eh otto minuti perfetto fantastico sono grazie on time a me non c'era il ok non c'era l'audio ok e quindi il nostro il nostro Alfie si è ritrovato oggetto di un contenzioso istituzionale verrebbe da dire a differenza di Charlie che aveva una speranza che era una terapia il contrasto con Alfie era veramente istituzionale e la la parola in un certo senso finale sulla sua vicenda è stata proprio da un punto di vista istituzionale non è stata accolta distanza del trasferimento del minore nonostante la cittadinanza ottenuta la cittadinanza straniera ottenuta perché il minore non era mai risieduto nel paese di cui era cittadino e quindi non poteva essere ehm considerata ehm accoglibile questa istanza il caso Hastrup è forse quello meno doloroso da un punto di vista ehm argomentativo e giuditoriale è stato meno contrastato tuttavia ha la sua alla sua rilevanza perché in un certo senso come vi ho detto il il giudicante il Justice McDonald in un certo senso cambia la prospettiva e questo sembra una un punto di in comune col caso Rakib che vedremo tra poco ehm il Justice McDonald riguarda il punto di partenza riguarda l'assume point of view of the child cioè il punto di vista del bambino in particolare le sue attitudini verso il trattamento salvavita da cui è sottoposto se le sue condizioni gli possono provocare dolore e se il piccolo è in grado di percepirlo questo è il punto soffre o non soffre e ehm data la sua tenera età Isaiah al momento del giudizio aveva compiuto otto mesi non era in grado di capire le opinioni le attitudini e le credenze dei genitori e quindi si vedeva soltanto mantenuto in vita passimamente senza neppure una condizione minima una coscienza minima e una prospettiva di miglioramento pertanto il suo best interest secondo il Justice McDonald era quello di interrompere il trattamento su questo punto sul 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 la percezione la consapevolezza la coscienza di capire le opinioni altrui è determinante nel caso da Fidara Kibur perché la questa bambina vede un destino completamente differente rispetto a quello dei tre precedenti casi Tafida riguarda riguarda la la ricenda di questa bambina in nottetempo subisce un una devastante moraggia cerebrale per un difetto congenito delle sue ehm dei suoi basi sanguini cerebrali viene ricoverata e eh i sanitari dell'ospedalieri chiedono appunto visto che secondo eh le loro proniosi la bambina non sarebbe mai potuta eh risvegliarsi da questa condizione di stato vegetativo permanente i sanitari chiedono che vengano sospesi i trattamenti vitali che la mantengono in vita e qua arriva il punto importante la bambina è cittadina inglese ma di seconda generazione i genitori sono originali del Bangladesh e sono una famiglia musulmana osservante e questo viene viene sottolineato negli atti di causa nel corso della vicenda della vicenda giudiziaria e viene sottolineato che Tafida nonostante fosse così piccola aveva già imparato ad apprezzare la vita a esprimere la sua religiosità e quindi a differenza di Aesia aveva una percezione più consapevole di ciò che secondo la visione evocativa della sua famiglia fosse giusto o fosse sbagliato e di conseguenza la la strategia di difesa della vita della bambina riguardava anche il trasferimento della piccola in un ospedale italiano non più attraverso la richiesta di cittadinanza ma attraverso ricordo siamo sempre neppone apre Brexit attraverso la il diritto o meglio la libertà di circolazione nel nel eh delle persone per poter godere di servizi anche sanitari a ehm ai sensi dell'articolo cinquantasei cinquantadue del trattato di funzionamento dell'Unione Europea e questo accade il giudicante in eh il giudicante della High Court riconosce sia ad affida il diritto la consapevolezza e quindi il diritto a essere mantenuta in vita perché la sua religione il suo il credo della sua famiglia a cui è stata educata questo eh questo crede e ehm attraverso il diritto dell'Unione Europea vi è stata trasferita al gaslini di Genova ove credo che tuttora sia ricoverata ehm questo era il punto eh sinteticamente il che ho cercato di di trarre dai miei studi, dalle mie ricerche sui casi dei minori britannici Cosa possiamo dire in sicure, in conclusione? Il tema è controverso appunto ma sto notando che dal punto di vista del corte inglesi c'è una minore rigidità nei confronti dell'accoglimento dei pareri del CAF-CAS si dà più ascolto anche agli desideri dei genitori questo è in violazione del Children Act dell'89? Questo viola la separazione degli interessi del Best Interest secondo la concezione britannica del Best Interest of the Child? Non lo so, non vi posso dare una risposta denso, non ce l'ho mi riprometto di riguardarvi, di seguire questi in questa evoluzione giurisprudenziale in futuro quello che mi sento di dire è che l'equilibrio tra gli interessi in gioco è veramente difficile da raggiungere è quello che apprezzo dalla giurisprudenza britannica è che si esprime in termini chiari non si nasconde e si prende anche delle forti gravi responsabilità vi ringrazio dell'attenzione e di avermi appazientemente ascoltato finora cedo la parola all'avvocato Lozano e saluto la professoressa Elia grazie grazie professoressa di questa analisi puntuale della casistica sono tanti gli spunti che purtroppo però come dice lei per le tante problematiche coinvolte non trovano una soluzione facile e forse insomma c'è da aspettare qualche ulteriore pronuncia in merito ma io un breve riferimento vorrei fare in base a quello che ha detto è possibile magari secondo lei individuare una best practice proprio nel richiamo al best interest per il minore in queste scelte di fine vita voglio dire il best interest è una best practice anche perché poi abbiamo visto che insomma viene un attimo compromesso in base a quello che poi è successo con le pronuncia a cui ha fatto riferimento non so se ci può illustrare qualcosa su questo allora il best interest innanzitutto la ragazza per la domanda perché foriera di molte riflessioni potrei parlarne fino a domani mattina il che non è bello e quindi la prego di staremo nei tempi no no non si riuscirò ecco il best interest è un concetto vago e di conseguenza possiamo riempirlo di quasi qualunque cosa il punto fondamentale è che fino a Tafida una best practice c'era in un certo senso si dava per così dire c'era il Kafka c'era l'avvocato comunque tuttore del minore questo oggettivamente e in modo molto netto quasi quasi freddo valutava di concerto con i medici eccetera comunque si prendeva la responsabilità del distacco dei dei support nei confronti del minore ma comunque c'era questa questa pratica c'era questa questa prassi ed era riconosciuta dalla giurisprudenza che come sappiamo nel comulo britannico ha valori di precedente vincolante soprattutto considerando che garde è andato addirittura fino alla corte suprema alla Supreme Court United Kingdom quindi eravamo tutti relativamente tranquilli più o meno dipende da uno come la si pensa ma dal punto di vista c'è una best practice c'era ci piaceva o non ci piaceva questo è un altro paio di paio di maniche poi la questione a Rizzeria Astrup ha cambiato un po' le carte in tavola perché ci si chiede appunto se il bambino se il minore se il paziente in questo caso è in grado di percepire cosa cosa potrebbe cosa potrebbe sentire in grado di esprimere ha espresso come nel caso di Tafida perché Tafida appunto aveva espresso una sua religiosità aveva espresso una sua forma di interesse la potenza della vita ci sono dei riferimenti nel testo della sentenza all'amore che Tafida aveva per gli animali tutti gli animali anche le fafalle per così dire quindi andavano protetti da questo si è fatto questo ragionamento la vita di Tafida va mantenuta e protetta e questo però io mi chiedo se sia già una best practice abbiamo due casi oppure se bisogna aspettare ancora qualche tempo quindi abbiamo un caso di una situazione che sembrava stabile e cambiata e adesso ancora in edinire questa è la risposta che mi sembra il caso di darle e mi mi fermo qua e va bene così ma grazie grazie no io giusto volevo fare i ringraziamenti alla professoressa Falletti anche per essere stata nei tempi e mi è sembrato particolarmente interessante il riferimento al best interest of the child e non è una coincidenza il fatto che si è inserito nel children act del 1989 perché è stato adottato in concomitanza con l'adozione e la ratifica della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo perché il best interest of the child in realtà è un'invenzione tra virgolette invenzione prendete questo termine con il beneficio del dubbio del comitato delle Nazioni Unite per i diritti del fanciullo che almeno dal mio punto di vista no dalla disamina dell'interpretazione che lo stesso comitato fa della convenzione e ci sono diversi aspetti secondo me rilevanti nell'intervento magnifico intervento della professoressa Falletti anche se io non sono comparatista in ambito privatistico però rilevo anche spunti di diritto pubblico nel suo intervento perché alla fine è una tematica ad crossroad e quindi investe molteplici aspetti e c'è la questione del diritto per esempio i casi a cui lei faceva riferimento il diritto al più alto standard di salute possibile che è il diritto alla salute così come è concepito in seno alle Nazioni Unite ma è che fa parte anche della Costituzione dell'OMS quindi questo continuo contrasto tra best interest of the child e higher standard of attainable health e sempre non so forse una specie di due facce della stessa medaglia io non so poi la professoressa cosa cosa ne pensa se sono due facce della stessa medaglia o se poi alla fine sia più uno a prevalere piuttosto che l'altro allora io non volevo interrompere però quello che quello che ha detto mi ha già suscitato una serie di riflessioni che appunto di nuovo fino a domani mattina non posso quindi tacciatemi è vero sì fa parte e grazie per averlo sottolineato fa parte della convenzione sui diritti del francio di New York guarda caso il children act del 1989 anche noi ratifichiamo pochi anni dopo e sì è una buona è una buona osservazione quella che fa la migliore cura possibile da un lato è il best interest of the child dall'altro sono in concorrenza o possono essere bilanciati secondo me possono trovare un accordo si può trovare un bilanciamento però di nuovo torniamo a una necessaria cooperazione tra le parti cioè la la scienza con i medici per quanto riguarda tutta della salute le istituzioni in un certo senso perché comunque parlando del sistema britannico non è così ma io sto parlando del sistema britannico il kafkas come può intervenire il tutore del bambino o perlomeno il ruolo del kafkas sarà ancora così rilevante come era oppure il nuovo orientamento della corte delle corti inglesi cambia le faccio le faccio un'osservazione che è probabilmente piuttosto è piuttosto fuori tema ma fa è pertinente quello che lei ha detto poc'anzi mi prendo proprio tre minuti quindi mi scuso mi scuso per la superficialità recentemente si è parlato dei trattamenti ormonali ai ragazzi ai ragazzi cosiddetti transgender è un tema molto complesso è un tema che è stato affrontato dalla corte delle corti britanniche nel caso bell versus tavisto anche qui è proprio la ricorrente ha citato in giudizio il tavisco il tavisco per evitare che questo tipo di protocolli cioè la somministrazione dei bloccanti puberali ai minori di 18 anni venga effettuata sui minori 18 anni quindi ha impugnato il protocollo affinché questo non venga più applicato e qui si si è si è data la corte ha dato una prevalenza alla tutela della salute in quanto integrità fisica è una decisione molto complessa io non la posso non la posso riassumere in così breve tempo però se uno va a analizzare in fondo applica il principio di precauzione in questo caso inteso come tutela della salute al suo meglio e quindi sottopone questo tipo di somministrazione agli infrasedicenni non diciottenni infrasedicenni al vaglio del giudice il giudice avoca se questo tipo di decisione e togliendola alle parti quindi ai genitori ai minori e anche i medici e anche il tavisto e questo da proprio a me dato l'idea di una prevalenza della salute in quanto integrità fisica e questo fa parte in un certo senso del best interest of the child e e quindi le due situazioni due principi si possono secondo me integrare vicinevolmente ma ci va la cooperazione delle parti degli attori delle operatori in che si occupano di questo tema ecco grazie professoressa e infatti io l'ultima cosa antonella infatti quello che lei appena detto in realtà si resume anche dal la congiunzione l'esistenza di una eh integrazione del best interest of the child con l'integrità fisica il diritto alla salute in sostanza almeno dal mio punto di vista anche l'indirizzo dello stesso comitato dei diritti del panciullo si desume dall'interpretazione che fa eh del diritto alla salute eh dei dei per come garantito dalla convenzione quindi eh secondo me eh sarebbe da approfondire il caso e la ragione completamente io eh spero ci siano altre occasioni in futuro di di approfondire l'argomento Antonella io eh vorrei se mi permetti eh approfittare dell'occasione per salutare eh perché purtroppo devo lasciarvi come vi dicevo purtroppo alle diciotto e trenta quindi esattamente tra eh dieci minuti e dovrò essere collegata in anticipo su per un altro impegno improrogabile quindi con gran dolore al cuore devo non posso ascoltare in diretta la dottoressa Falà che veramente attendevo eh sinceramente da quando abbiamo già pensato che avremmo fatto i webinar quindi ancora non avevamo i calendari eh e quindi non è veramente sono sono molto dispiaciuta per questo così come il dottor Bazzoni eh mi dispiace non partecipare al dibattito eh che il collega Paolo Palumbo sa eh essere la mia la mia parte la la parte che adoro di più di questi webinar perché è dove ci riavviviamo un poco e torniamo a una parvenza di quasi normalità eh perciò io chiedo umilmente scusa se eh dovrò lasciarvi eh a breve eh ho mandato però nella chat eh il l'indirizzo email per eh rimanere in contatto con con tutti voi e e seguire eh continuare a fare ulteriori commenti ringrazio la dottoressa lo sanno per eh il meraviglioso eh webinar organizzato oggi eh eh e quindi eh vi lascio in ottime mani con la sola responsabile vi lascio con la sola responsabile della giornata di oggi eh e che mi ha onorato di di includermi tra i partecipanti grazie infinite grazie a te Antonietta troppo buona mi dispiace che vai via ma mi avevi annunciato questo progresso impegno improrogabile e allora ehm ciao Antonietta e ora eh la parola quindi ehm alla eh dottoressa Palà al dottore Bazzoni non so eh solo per una questione di eh scaletta di eh programma eh la la lascerei non so vedete tra di voi come eh ritenete eh meglio organizzati dal momento che ehm del professor il dottor Bazzoni eh si occuperà del manifesto eh interreligioso dei diritti nei percorsi del fine vita invece la dottoressa Falà eh farà a mh all'attere dell'intervento appunto eh parlerà delle linee guida che sono state pubblicate eh non più di venti giorni fa e quindi si vanno a collocare a specificazione integrazione del manifesto eh già reso eh già sottoscritto nel febbraio del cinque febbraio del duemiladiciannove ehm atto a definire eh diritti ehm a garantire oltre le curi i diritti degli appartenenti alle varie confessioni religiose nei percorsi del fine vitae a garantire oltre alle cure e al rispetto della dignità e il supporto eh religioso spirituale per la per i pazienti nella fase finale in varie strutture sanitarie e tanto è vero che mh il documento appunto si va a a realizzare un atto di particolare sensibilità nei confronti del dialogo interreligioso sanitario con il significativo contributo di tutte le confessioni religiose e mh oserei dire che eh se mi consentite questa non per protagonismo ehm a favore dei eh relatori eh ma che il manifesto interreligioso eh insomma è stato sottoscritto prima della dichiarazione delle religioni abramitiche quindi voglio dire una bella responsabilità eh dottoressa Fala eh avete dato in là alla dichiarazione quindi siete stati avete visto eh lontano e allora eh colgo eh con questa con questo porgo la parola non so proprio alla dottoressa Fala e poi magari l'intervento del dottore Bazzoni prego dottoressa grazie per aver accettato l'invito in prima battuta è un onore per me averla qui e eh insomma ci siamo relazionati varie volte in questi giorni è stato un piacere e che eh insomma eh mi auguro continuerà in prosieguo prego benissimo grazie di questa introduzione eh io condivido questo spazio con il dottor Bazzoni faccio un piccolo intervento di apertura e poi darò la parola alla dottor Bazzoni che è stato veramente anche il cuore no di questa nostra esperienza che ha collegato insieme il tavolo interreligioso di Roma l'ASL Roma 1 in cui il professor il dottor Bazzoni è stato a lungo uno dei dirigenti più attenti e sensibili alla dimensione interculturale della eh diciamo del rapporto fra l'ospedale e la struttura sanitaria dei pazienti e i gemelli medical center eh dell'Università Cattolica del Sacro Cuore quindi un insieme di realtà che hanno collaborato per redigere con un lungo cammino eh direi eh proprio di cooperazione con le varie confessioni religiose quello che è stato il manifesto interreligioso dei diritti nei percorsi di fine vita il cui stesso titolo già indica la complessità del tema perché abbiamo pensato appunto dei diritti nei percorsi perché perché il fine vita è caratterizzato da percorsi diversi in cui le varie fedi hanno dato il loro supporto alle proprie ai propri praticanti e quindi ai propri fedeli. Questo manifesto che poi ha avuto anche un onore internazionale perché eh è stato premiato per la settimana dell'internazionale dell'armonia tra i fieri delle Nazioni Unite nel duemila e diciannove con una la medaglia d'argento del re del re di Giordania perché appunto abbiamo a dava spazio a questo momento che oggi eh nel contesto anche pandemico in cui viviamo è diventato qualche cosa di più su cui più si può parlare ma che prima il contesto effettivamente del fine vita veniva lasciato o tralasciato o nascosto proprio nell'ambito stesso di quello che è portato della nostra società. Bene io lascio adesso la parola ad Alessandro Bazzoni e alla sua grande esperienza in questo campo poi la riprenderò alla fine per dare delle indicazioni più specifiche rispetto proprio all'applicabilità perché la caratteristica che noi sempre abbiamo voluto dare alle azioni compiute in ambito sanitario di rapporti con le strutture sanitarie della tavolo interirigiosa è stato quello di non essere portatori soltanto di diritti ma essere capaci di trasformare diritti in procedure e quindi in pratica nelle strutture sanitarie. Grazie Alessandro. Devi aprire il microfono. Mi sentite adesso? Sì? Bene allora buonasera a tutti. Grazie Mariangela. In realtà il manifesto interirigioso è il prodotto di un lungo rapporto, di un lungo dialogo della ASL Roma 1, quindi io parlo come dirigente della ASL Roma 1, che ha portato avanti con il tavolo interirigioso da circa dieci anni, quindi non è da ieri che ne parliamo insomma, il dialogo interirigioso in ambito sanitario. Per cui quando parliamo di manifesto interirigioso in realtà parliamo di umanizzare dal punto di vista chiaramente di un'azienda sanitaria il morire nelle strutture sanitarie. Perché questo? Allora intanto io come dirigente dell'ASL Roma 1 e come anche dirigente della regione Lazio ha portato avanti l'umanizzazione in ambito sanitario. Che significa questo? Significa rendere le strutture sanitarie il più possibile aderente alle esigenze, ai diritti della persona che accede nei vari servizi territoriali e ospedalieri della regione Lazio e ovviamente dandogli un respiro più ampio, l'augurio è quello di far sì che tutto questo possa poi realizzarsi sul territorio nazionale. Ora il dialogo interirigioso è incominciato, faccio una breve panoramica perché è importante capire come siamo arrivati a questo risultato. È incominciato addirittura nel 2014 attraverso la creazione di un laboratorio, cosiddetto laboratorio, per l'accoglienza delle specificità culturali e religiose nelle strutture sanitarie. Quindi col tavolo interreligioso in primis e con altri enti all'ATER e come per esempio il Centro Servizi del Volontariato del Lazio, l'Associazione Volontari Ospedalieri, Cittadinanza Attiva, Tribunale dei Diritti del Malato, noi abbiamo cercato di costruire un percorso che possa, come dire, migliorare l'accoglienza delle diverse persone che hanno, che aderiscono alle diverse confessioni religiose all'interno delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali. Questo che cosa ha comportato? Ha comportato che insieme abbiamo elaborato, per esempio, abbiamo elaborato, diciamo, un percorso di accoglienza che ha portato a un protocollo di intesa con tutte le religioni, con le organizzazioni che dicevo prima, e ha portato alla elaborazione di un libretto chiamato l'accoglienza delle differenze e specificità culturali e religiose nelle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali della regione Lazio. Di che cosa si tratta? Delle prime raccomandazioni elaborate dalle diverse religioni per gli operatori sanitari che operano nelle strutture in modo tale che sono messi nelle condizioni di conoscere quali sono le modalità specifiche da parte di tutte le religioni in merito all'accoglienza delle persone che accedono nei reparti ospedalieri. Questo è un libretto che ha avuto, diciamo, un successo che noi effettivamente non prevedevamo. È stato pubblicato, è stato, diciamo, è conosciuto praticamente su tutto il territorio nazionale. Questa particolare attenzione al dialogo interreligioso ha portato a dare particolare importanza ai percorsi di fine vita. Che cosa abbiamo fatto a questo punto? Abbiamo fatto un corso di formazione a livello regionale per quanto riguarda tutte le associazioni di volontariato che accedono nei vari servizi ospedalieri e che si occupano del fine vita. Da questo corso di formazione fatto in collaborazione col tavolo interreligioso sempre è uscito fuori un altro libretto chiamato Percorsi di fine vita che è stato presentato al Senato, mi sembra, a Mariangela, mi sembra che l'abbiamo presentato lì. E questo libretto che cosa porta? Porta come obiettivi centrali, l'albo dei referenti religiosi, procedure per l'accoglienza multiculturale e propone per la prima volta l'idea di creare uno spazio di preghiera multireligiosa nei presidi ospedalieri. Quindi questa collaborazione col tavolo interreligioso da parte di questa grande azienda sanitaria ha portato a due grandi risultati nel 2019. Il primo, la elaborazione del manifesto interreligioso, ma vorrei anche ricordare che siamo riusciti a creare insieme con l'Ordine degli Architetti della provincia di Roma, di Roma e di provincia, nel primo concorso di idee, cioè curare lo spirito nei luoghi di cura del corpo, che ha visto la partecipazione di un numero, non mi ricordo esattamente quanti, Mariangela, ma mi sembrano tanti, una cinquantina di progetti da parte di architetti provenienti da tutta Italia e c'è stata anche una premiazione con la scelta dei migliori progetti e i due migliori progetti verranno appena possibile realizzati nel presidio ospedalieri Santo Spirito e San Filippo Neri di Roma. Ma torniamo un attimo al, come dire, ai percorsi di fine vita. Ora, il dialogo interreligioso si è incontrato con i percorsi di fine vita nel 2018, quando ci siamo, come dire, occupati della qualità, diciamo così, di tutti i percorsi che riguardano i fine vita, perché noi, come aziende sanitarie, come all'interno anche della cabina di regia regionale sull'umanizzazione, abbiamo notato le grandi difficoltà che ci sono, c'erano, e poi si sono nettamente incrementate durante la pandemia per quanto riguarda, diciamo, tutto quello che di fatto è la relazione con la persona morente e i suoi familiari. L'obiettivo è quello di facilitare il più possibile l'incontro della persona e la sua famiglia con questo segno umano e spirituale proveniente dai rappresentanti della propria fede. Ora, è ovvio che i percorsi di fine vita, noi abbiamo notato, mettono in rilievo come nelle ore più difficili non ci sono più differenze culturali e religiose, ma solo un destino è un approdo comune. Ora, il manifesto interreligioso è stato il prodotto di una collaborazione, come diceva prima Mariangela, di tre promotori, l'Asolo Roma 1, il tavolo interreligioso e il Gemelli Medical Center, attraverso l'Hospice di Vila Speranza. L'Hospice di Vila Speranza è, diciamo, un hospice che rientra all'interno del territorio dell'Asolo Roma 1 ed è stato scelto proprio per la sua sensibilità nei confronti del dialogo interreligioso e ovviamente del fatto che negli hospice si va a morire e quindi è il luogo privilegiato per poter osservare quello che avviene nella relazione con la persona morente e i suoi familiari. Ora, c'è anche da dire che, come dire, il gruppo promotore ha dato, partendo da aprile 2018, quindi sembra sia passato un secolo, in realtà sono passati soltanto aprile 2018 due anni. Sono esattamente due anni da quando abbiamo incominciato a dar luogo a una serie di incontri con i diversi rappresentanti delle fedi presenti nel territorio nazionale che hanno aderito insieme con le associazioni enti del terzo settore e questa riflessione congiunta e condivisa ha portato all'elaborazione di nove diritti. Nove diritti della persona che, come dire, si tratta ovviamente di poi, diciamo, realizzarli all'interno delle strutture sanitarie. Ora, il gruppo di lavoro che ha contribuito alla realizzazione del manifesto, io lo ricordo, a parte l'Asroma 1, a parte chiaramente il tavolo interreligioso e i Gemelli Medical Center hanno partecipato al Centro Culturale Islamico d'Italia, la Chiesa Adventista, la Conferenza Episcopale Italiana, la Diocesi Rumena in Italia, i Gemelli Medical Center, ovviamente l'Istituto Buddista Soga Gakkai, l'Unione delle Comunità Ebraiche in Italia, l'Unione Induista Italiana, l'Unione Buddista Italiana, il Vicariato di Roma e, come enti del terzo settore, l'Associazione Volontari Ospedalieri, l'AVO, Cittadinanza Attiva e il Centro Servizi Volontariato del Lazio. Ora, ovviamente il nostro compito, oltre a averlo presentato il 5 febbraio presso il complesso monumentale Santo Spirito, abbiamo avuto il sostegno e la presenza del Ministro della Salute, oltre che chiaramente dell'assessore della Regione Lazio, oltre ad aver vinto il premio che diceva giustamente la professoressa Falà, ma il grande impegno adesso, al di là di tutti i riconoscimenti che abbiamo avuto, di cui siamo sicuramente molto felici, è quello di far sì che venga applicato il più possibile. Nelle strutture sanitarie, molte hanno già aderito al manifesto, ma l'adesione al manifesto, per esempio ricordo che al manifesto ha aderito il Federsanità ANCI, ha aderito la FIASOL, cioè la Federazione Italiana Aziende Sanitarie Ospedaliere, hanno aderito delle importanti aziende sanitarie del Lazio, oltre all'ordine degli infermieri, quindi di Pasvi, la grande sfida è far sì che questo manifesto venga applicato attraverso le linee guida che sono state poi elaborate successivamente in tutte le strutture dove purtroppo è possibile l'evento morte. Questa è la grande sfida. Ora, io vorrei dire questo, purtroppo la pandemia ha complicato molto le cose. Di fatto questi diritti sono stati letteralmente sospesi. Le persone sono morte, sono morte sole. I riti, le cerimonie sono stati annullati. Non si è fatto più niente. Non solo questo, ma con molto dispiacere, con molta tristezza, ho letto oggi nel giornale, nel giornale di Roma, uno dei giornali di Roma diceva che addirittura le salme vengono mandate in campania. Purtroppo c'è una situazione drammatica. Io so che siete al corrente di quello che sta succedendo, ma io vi dico soltanto questo, le persone non sanno nemmeno più dove sono i loro cari morti. Addirittura una famiglia è andata a Napoli a cercare le ceneri del proprio carro. Bene, è una situazione tragica, drammatica che noi stiamo vivendo. Noi ci auguriamo che il diritto, il diritto a quello che è ciò che è stato da sempre rappresentato, addirittura, diciamo, nelle sedi rupestri. Noi sappiamo, ci sono dei graffiti che indicano la sacralità del momento, del morire. Bene, noi oggi abbiamo sospeso anche questo. Io mi auguro che venga, ripeto, tutto al più presto e che il morire torni a essere un percorso umano. Io finire qui e ridare la parola alla professoressa Mariangela, che credo sia giusto che, come dire, che dica qualcosa anche in merito a questo, perché sarebbe bello sapere, per esempio, cosa ne pensano le diverse confessioni religiose rispetto al momento che io ritengo drammatico che stiamo vivendo da questo punto di vista. Grazie. Grazie. Bene, grazie Alessandro. Io riprendo la parola, prendo questa tua richiesta con grande interesse, con grande partecipazione e penso anche che sarà uno dei punti che noi andremo a toccare nel prossimo seminario, quindi comunque ringrazio il professor Palumbo per questi invidi, che toccherà proprio più specificamente il tema legato a quello che è il fine vita dopo. E' questo anche momento molto importante del rapporto fra la persona che ci lascia e che lascia questa ferita all'interno della famiglia e la famiglia stessa. E anche uno dei diritti del manifesto è proprio questo, è stato molto, su cui noi abbiamo molto lavorato, il fatto che il sostegno spirituale, il supporto relazionale non fosse dato soltanto per la persona che ci sta lasciando, ma anche per la struttura familiare, per la struttura amicale con cui questa persona è in contatto. Perché il sostegno spirituale, il supporto relazionale è fondamentale per chi ci lascia, ma è anche molto importante per chi resca. E questo è un punto che oggi sentiamo con maggior acutezza a causa della pandemia, questa sospensione. Viviamo anche per il manifesto in un tempo sospeso, sospeso tra appunto l'impossibilità e la necessità, l'impossibilità di avere questi diritti effettivamente in azione, ma la necessità che comunque ci siano e che possano essere di nuovo messi in azione. Ed ecco che questo ci ha anche sostenuto per la pubblicazione che è stata curata dalle varie confessioni religiose e dal comitato promotore, appunto, per le linee guida affinché questo manifesto diventi una pratica e diventi qualcosa di applicabile. E forse in questo momento di apertura e forse di nuove speranze per l'uscita da una situazione di drammaticità che ci ha visti vivere ormai da oltre un anno, ecco, questa pubblicazione probabilmente vuole dare una speranza. Una speranza che le linee guida che rappresentano proprio l'orientamento operativo per gli operatori sanitari e sociosanitari che si trovano di fronte a queste sfide, a nuove sfide deontologiche, a nuove sfide etiche che coinvolgono pazienti che provengono, e questo è il nostro interesse fondamentale, da diverse culture, da diverse lingue, con diverse lingue, con diverse religioni, con fedi diverse. Quindi il nostro approccio è sempre stato un approccio legato anche al lavoro che state facendo, al fatto che la società italiana si è trasformata in questi ultimi anni in una società multiculturale con multipresenze, che quindi sollecita nuove iniziative di informazione e di formazione, e che i modelli anche comunicativi e relazionali all'interno delle strutture sanitarie devono rispondere a queste sfide di integrazione, di integrazione a nuove forme di solidarietà e anche di condivisione. Per cui questo manifesto che speriamo possa essere di nuovo attivo nelle strutture sanitarie, come diceva poco fa il dottor Bazzoni, attraverso la FNOPI e anche le altre strutture, della FIASO, la Federsanità, quindi c'è un ampio ombrello di federazioni che sostengono l'applicazione del manifesto, con le linee guida possa riprendere il suo cammino, essendo un percorso, quindi possa riprendere questo cammino. E le linee guida intendono offrire, ecco, sono molto semplici, è quasi delle schede, quindi un testo molto agile, di facile consultazione, proprio per dare indicazioni operative, per rendere effettivi questi nove diritti che costituiscono il manifesto di per sé. Ed è stato pensato proprio per le strutture assistenziali, per il personale sanitario e socio-sanitario. L'hanno scritto i referenti delle confessioni religiose, con proprio l'idea di dare delle indicazioni, di fatti ci sono indicazioni relative alla preghiera e all'osservanza rispetto alla propria fede, ma anche indicazioni, il rapporto con il proprio corpo, il rapporto con il dolore, la dignità della morte e quindi il trattamento pre e per i morti. Quindi come una persona possa morire degnamente con il supporto della propria fede, con la presenza della famiglia, con la presenza di una struttura sanitaria rispettosa, di questo attimo fondamentale che ci accomunerà e ci accomuna tutti. Quindi queste indicazioni delle diverse fedi nei confronti del fine vita far sì che in quei momenti così difficili possa essere garantito il conforto, il calore, il sostegno, l'appoggio. E quindi la valorizzazione rispetto di queste diverse sensibilità religiose e anche culturali, perché all'interno ci sono anche delle indicazioni specifiche di diverse culture, consente di mantenere sempre al centro dell'attenzione la persona. In questo caso la persona è inferma e la sua dignità. Non esistono diversi valori di vite umane. Tutte le vite umane hanno un valore incommensurabile presentando pari dignità, importanza e sacralità in virtù del principio di uguaglianza. E con queste linee guida abbiamo voluto mettere in atto, far sì che questi principi, che questi aspetti possano essere sostenuti e possano avere tutto quanto è possibile da parte della struttura di accoglienza, della struttura sanitaria, possa essere offerto. Tutti questi principi si basano anche sugli articoli del manifesto. L'articolo 2 dice il diritto al rispetto della propria religione. L'articolo 3, il diritto orientato a servizi legati al rispetto della sfera religiosa, spirituale e culturale. Ecco un altro punto che vorrei sottolineare. La nostra attenzione è stata questa. C'è una sfera religiosa, ma c'è una sfera più ampia, che è la sfera dello spirito, e poi c'è anche la sfera della propria cultura. Non va dimenticata. L'uomo è una realtà complessa, in cui religione, spiritualità e cultura nel momento focale della fine della propria vita devono essere sostenuti e tutelati. E poi abbiamo anche un altro degli diritti, il diritto proprio al rispetto alle pratiche pre e post mortem, in cui si dice chiaramente, ed ecco le nostre linee guida, la struttura sanitaria è tenuta a conoscere tali pratiche, a formare adeguatamente il proprio personale, a creare le condizioni perché queste pratiche possano essere realizzate, ovviamente in conformità con la normativa vigente. Ecco, un altro punto, molti di voi sono appunto legati anche al rapporto con la legalità, all'interno anche del comitato, del gruppo che ha sostenuto, avevamo ad esempio l'avvocato Antonella Capatti che ci ha sostenuto in questo passaggio, in questo cammino. Ecco, la parte legale è fondamentale, voi sapete chiaramente benissimo che alcune confessioni religiose hanno l'intesa ex articolo 8 della Costituzione, quindi hanno in un qualche modo garantite alcune delle proprie pratiche funerarie, pensiamo alla comunità ebraica o anche alla comunità buddista che hanno articoli ben specifici su questo, ma sapete bene anche il grande problema che c'è legato alla comunità islamica che non avendo un'intesa si trova molto spesso a doversi confrontare con situazioni non facili e talvolta drammatiche in questo contesto. Ecco, per cui abbiamo anche indicato che nei vari articoli c'è il diritto a ricevere assistenza spirituale sia da parte del referente delle proprie religioni e come diceva poco fa il dottor Bazzoni abbiamo anche pensato a questi albi che possono essere gestiti dalle strutture sanitarie ma anche da parte di referenti di altre fedi perché ognuno ha il diritto in questo senso di avere un'assistenza spirituale in questi momenti e quindi questa apertura, apertura a tutte le fedi e al rispetto reciproco. L'articolo 9 con cui vorrei concludere questo breve intervento, l'articolo 9 dice ogni diritto porta come conseguenza il dovere di ognuno di rispettare il credo religioso degli altri siano essi pazienti, familiari o personale di cura. Ecco, questo chiude il manifesto ma apre alla vita. Grazie. Grazie, grazie dottoressa Falà è stato il suo intervento intieme a quello del dottor Bazzoni è stato veramente coinvolgente penso che sia il termine che praticamente includa tutto sostanzialmente ritengo penso che siamo partiti dai caratteri generali dal diritto alla salute dal diritto alla cura da caratteri veramente che stanno veramente un po' sopra le nuvole per poi arrivare a una concretezza estrema quindi dalla teoria alla pratica e alla buona pratica clinica e non solo e oserei dire che infatti le linee guide si vanno a collocare proprio in quei momenti in cui la fragilità la vulnerabilità la finitezza sono estremi raggiungono il limite oltre il quale appunto non si può più andare e quindi vanno in questi momenti si vanno a suscitare domande per le quali ognuno nella propria dimensione troverà una risposta ritengo penso con il consenso di tutti i partecipanti al webinar che le linee guide hanno dato una risposta veramente positiva e hanno incluso tutte queste problematiche fino a come ha detto giustamente analizzare a considerare come ha detto giustamente la dottoressa Falà l'uomo come realtà complessa quindi a considerare le singole spacciettature religiosa culturale spirituale e in questa ottica della di considerarle sono state vengono poi viene sostenuto e tutelato e penso sia un esempio veramente concreto appunto che vada ad individuare una veramente una best practice con di tutto riguardo e con questo io chiudi grazie ancora a tutti i relatori alla professoressa Falletti alla dottoressa Falà al dottor Bazzoni non so se posso mi posso avviare possiamo chiudere oppure c'è qualche ulteriore precisazione che sollecita insomma l'attenzione può sollecitare l'attenzione dei relatori non so Paolo poi non so se hai qualche priorizzazione non so a chiusura io credo che veramente stasera abbiamo avuto un'occasione preziosa di riflessione ecco non voglio ripetere quello che già ha detto Antonella davvero ecco il percorso che abbiamo fatto questo pomeriggio è stato significativo e credo che le parole del dottor Bazzoni della dottoressa Falaio ha avuto l'occasione anche di partecipare come spettatori a tanti webinar a tante attività che il tavolo interreligioso anche con l'associazione Confronti con grande merito fa sul nostro territorio nazionale davvero per questo per quel poco che può rappresentare quello che noi siamo li ringraziamo per quello che fanno sul territorio nazionale davvero sono le parole che in tutti noi suscitano ora quel sentimento di inadeguatezza che è tipico del rapportarci con un mistero così grande come il mistero della morte e con quel sentimento di inadeguatezza che ognuno di noi ha potuto purtroppo anche sperimentare casomai in qualche esperienza personale in questo difficile momento storico perché personalmente o perché qualche amico non ha potuto ecco dare quel conforto spirituale culturale al di là che religioso come diceva giustamente la dottoressa Falà ha un proprio caro noi come Università Giustino Fortunato durante il lockdown abbiamo lanciato una ricerca che ha coinvolto circa otto mila persone e da questa ricerca è venuto fuori che ciò che è più pesato a coloro i quali come tutti noi hanno accettato il lockdown è stato non poter dare l'estremo saluto a un proprio caro morente quindi davvero siamo andati al cuore delle problematiche che riguardano appunto le dinamiche interculturali perché ecco come diceva giustamente anche il dottor Balzoni al di là del dato religioso nelle ore più difficili c'è sempre un approdo comune in questo senso direi direi che anche il concetto di fraternità a cui ci ricorda ci richiama sempre Papa Francesco è quanto mai significativo come strumento di un dialogo costante tra le religioni in questi momenti così topici e particolari della vita attraverso i quali tutti noi siamo chiamati a passare ma con la consapevolezza e con ognuno per il proprio orientamento religioso positivo negativo che sia appunto che trattasi di un passaggio ecco sono cose sulle quali torneremo e che affrontiamo anche con il giusto interesse anche con la giusta attenzione nell'ultimo webinar che avremo poi il 25 maggio dove appunto approfondiremo il tema delle sepolture dei cimiteri ecco nel frattempo io ho anche ricevuto la disponibilità del presidente del Nuboi del presidente dell'Unione Buddhista della referente dell'Anci per il welfare che sarà con noi il 25 maggio oltre agli altri relatori tra cui anche la dottoressa Falac che tornerà e ne approfitto nel ringraziare la dottoressa Lo Sano e nel chiusere dei tempi che c'eravamo prefissi questo webinar per ricordare nuovamente i prossimi appuntamenti noi ci rivediamo il 22 aprile alle ore sedici stesso link stessa piattaforma per chi vuole continuare questo percorso per chi vuole portare avanti questa riflessione con noi sulle problematiche interculturali affronteremo il tema coppie e famiglie miste 22 aprile ore sedici e invece poi il 26 aprile tutela della libertà matrimoniale contrasto al fenomeno delle spose bambine sempre all'interno di questo ampio progetto sul pluralismo confessionale le dinamiche interculturali appunto le best practice per una società inclusiva buon proseguimento di serata a tutti grazie ancora all'avvocato Lo Sano che ha coordinato alla professoressa Falletti alla dottoressa Falà al dottor Bazzoni per quello che è possibile ecco noi siamo disponibili anche sui nostri territori a farci portavoce con le istituzioni della sottoscrizione di questo manifesto per quanto riguarda il nostro territorio riteneteci a vostra completa disposizione e auspico che anche altri che sono collegati vogliano impegnarsi per le proprie strutture sanitarie di riferimento a parlare con i dirigenti perché questo manifesto possa camminare ma ha bisogno delle nostre gambe per diventare realtà e quindi su questo immaginiamo di poter crescere e provvedere ancora insieme buona serata a tutti e grazie ancora grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti